Calendario dell'avvento degli Oscar, 1996, questo è stato un anno molto interessante. Il premio come miglior film e miglior regia va a Mel Gibson per Braveheart. Storia di William Wallace che nel XIII secolo ha combattuto per liberare la Scozia dal gioco del re d'Inghilterra. Nicolas Cage vince il premio come miglior attore protagonista per la sua struggente interpretazione in Via da Las Vegas. Ebbene sì, c'è stato un tempo in cui Nick Cage vinceva gli Oscar. Ma soprattutto il 96 è stato l'anno in cui il mondo ha conosciuto il talento di Kevin Spacey che si porta a casa la statuetta come miglior attore non protagonista per i Soliti Sospetti. Soliti Sospetti che vince anche l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. E il 96 è anche l'anno in cui l'Academy inizia a rendersi conto che nel mondo dell'animazione sta avvenendo una vera e propria rivoluzione. Infatti conferisce un premio speciale a John Lasseter per il primo Toy Story. E l'Oscar va a... 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 E l'Oscar va a...